Allora come ci andiamo Dai death ball Lei ha il suo cazzo di hash sempre pronti tipo prima di tutti i carichi Non siamo in quick play nessuno ti fotte a No allora dai facciamo una death ball che non l'abbiamo ancora fatta stasera o non ha senso qua Rain Zarya tranquilla e basta Io ci sto per una Goaz Una Goaz Rain Zarya basta Ancora ma sempre quella Rain Zarya basta Beh ascolta sono tutti l'incastrati sul punto Dai ascolta Io farei Rain Zarya Junkrat Dai va bene Rain Zarya Junkrat Farei ok Farei il faccio Rain Zarya Anzo 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 Junkrat Farei il primo punto E' qualcosa che stia dietro con Miller fare il primo punto Tanto che scendrà qualcuno a sua carriera E' mister piccolo Questa è un punto di vista Anzo Anzo Tutto frutto Io vado dietro Vado a no vado a zen Vai a no Hanno Anna zen dobbiamo comandare Hanno Va bene questo Ok Pronto zen Va bene Ma in uso troppo serbatoio Visto che dovrei combatteremo più che altro separati Comunque Occhio a chi viene a flancare i nostri healers Sì sì state con me cari healer Venite qui Siete i miei risauvo serve aiutato a sinistra arrabbiare lo scudo no sì abbiamo abbiamo occhi di capore salori 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 occhio a me e ora è stato nata un cibo c'è il buco entrati 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 non mi hanno pillato forte però non c'è niente ora non c'è la torreta ma facciamoci la torretta ragazzi non hanno i scan meno che topi orneana io consiglierò una fara no tu sei fatto si fanatico di fara non ho mai parlato o se 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 anzo sale distruggi la torretta va benissimo anche 3 o bollato con lo spaiato forse sedia ci sono ma fa 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 torretta io anche c'è la ma anche lì per un piccolo anno ma pensare ma sono ma è solo a fare un segno di cure ragazzi sto morendo per ogni fire strike in due partiti ok l'ho fatta a posto troppiamo la scala del dai siete pronti? abbiamo il grado si quando vede l'occasione no abbiamo abbiamo la compo ansia dorme chiuso 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 e arriviamo ho fatto mai 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 ho bisogno di ho bisogno di ho bisogno di reina quando è morto non andare lì cioè doveva attraversare la porta per ma non deve attraversare la porta se no sicuramente è morto vai 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 adesso che abbiamo un po' un po' un po' un po' un po' un po' io non ho visto che ma fare ma fare il coso il supercharger po' vabbè me mi scopo mai è morta prendete tutte le più possibili scatenate non è una busta no 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 dps che uccidono me serve qualcosa per uccidere la torreta si chiama c'è quella torretta è morta la torretta lo uccisa io prima mi stava martellando ok la tendenzia mai prima di ps non si sa un po' il posto come io preferisco dai avesse attenzione scudi illuminami tu la sua parte cosa per un città quella cazzo di me non lo sarà ancora altro mai posso non ci sarà per appena il rapporto a la buona tra la tratta la tratta la tratta la tratta la tratta la tratta quella cazza di che cosa state arrivati fuori gli healer sono fuori si però arriviamo cerchiamo di farci dato retta fast discord dategli un pugno date un pugno a rena punto punto tutti assieme si fai to sul punto adesso si fai to sul punto chi c'è ancora torbio è morto torbio è morto Anna torna indietro Anna torna indietro ora se veramente fuori dalle fuori d'appunto nanobus c'è ora se veramente fuori d'appunto abbiamo anche la trascendenza la meta troppo usciamo video però aspettiamo tutti aspettiamo tutti non siamo sei non so la me che ci taglia fuori anche anche migliorano anche miglioramento la me stile fuori attenti serve qualcosa per la torretta che metto l'aigrante si ma è top la regla la regla cosa con la torretta per l'ora e l'ora e l'ora e l'ora e l'ora e l'ora e l'ora notte e la persona si è lasciato di perdere proprio proprio il nuovo passivo andiamo 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 proviamoci proviamoci teniamo le ultime proviamoci no non si può fare anche ma che ne spona prima tra noi e loro io sono già tornato sottometti ti abbiamo preso due tè raga porco dio tiri fondo ma cazzo durissimo ho preso la cosa ho preso Moira ok in dorme buono punto 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 ah no no slip ho lo shutter ho lo shutter allora risalò occhio aiutatevi non ho l'ora non ho l'ora non ho l'ora è in low morto 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 dai raga porco dio trastatemi si trastatemi ho fatto uno shutter bruttissimo sui butti che ha fatto un'upper ca... nessuno l'ha visto nessuno l'ha visto nessuno l'ha visto NO è entrato tutto anch'io 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 vogliamo trollarle anche noi? effettivamente potremmo vieni qua figlia del demonio orrisog ci vai Anna Zen questa combo aspetta Anna Zen no ma te sei messo il microfono in gola per dirlo si la gente che registra pensa che siamo handicappati non che c'è da porco ti dico dopo una certa ora non parlo che cazzo è era solo per te prego basta porco cane ho visto se cazzo di france sul punto lo volevo salivare oh ma c'è da gente che lo sa la gente lo sa la gente lo sa di andare ma guarda alcuni se lo dimentico ma allora so alcune mappe serve tipo su la cazzo di busa che mi perde ogni volta quando riesco da lo spawn rispetto quando fai la palletta del numero 10 che ho creato ora seccate poco ma va cadete lì se cadeva solo da anzo mercy rain diva diva base a sinistra l'ho diva 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 attenti al bastion si trova tu lo dimentico ma c'è anza in alto destra adesso non è più lì hanno bastion hanno bastion hanno bastion è un problema merda eh hanno un pick mi spiace andate sul punto eh qua c'è chi muoio cambio risa al volo eh si cambio risa con diva è l'unica cosa che posso non vengi sarebbe gradito che mi sarebbe gradito va bene a me va bene anche poi puoi urlare per il bastion mi dice si ball wall non è che tu rifatti son basta per gli spazi alla sinistra sono main viva centrale viva discordata l'ho disco dj ok lasciate lasciate perdere baby diva questo altro bastine bastine one l'ho discordato destra in alto state in vista dei leader non li push up ho sbagliato io scatenami sul nemico bastionato bastionato nascondetevi andiamo sul bastion barino e barino e per il punto bastionato sono sotto suona se non è qui se non è mio merci 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 messi biselto nel dio non è male ma poi capo in campo con la campana con l'arte comunque qualcuno metta le confie qualcuno metta le goffie se no scheletto ti prego sento tre volte le stesse cose basta viva mid a tutti tutti i suoi basta in sopra basta in sopra e gli chiedi di te lo vedete anzo lo vedete anzo arrivo appunto metto 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 up sorry cazzo ma pensavo che il rain stessi scappando portano stessi da non volevo tempo capace per me c'è a fare il punto basso 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 spu un pochettino ma c'è questa è la versione 10 e quale essere 10 e questa che cazzo stai facendo questa la versione ma porco dio non puoi essere così stupido si è erano stupido sincero almeno questo stanno andando top baston top baston top ma se fosse un po' di bar mario bastone basso a destra a stare basso a sinistra delle caratteristiche 8 il motore devo apprendere no vabbè raga mi spiaggo attima che cazzo gli ho fatto sto giocando benissimo questo cancro di merda tumore del cazzo pg di merda si va raga mancano ancora 4 minuti via c'è la coda c'è la coda da cui appunto perso secondo me uscire forca bruttana avevo visto sono tutti in alto a sinistra ad un piccolo abitano la piccola punto 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 daniele punto arriva un drago sul punto non ho mangiato no danny ci stavi sul punto non muove tu mi raccomando dove hai il baston che l'ho sciolto il baston è main eh ma mangiato mattinissimo congelalo 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 sono morto sono morto ci stai sul punto ci stai sul punto ci stai sul punto pure per me nooo avresti dovuto svizzare a lusio quando non ha visto nella di lonti si arriva i più veloci sono sono morti che avevano la pg per contatto ma parliamo 3 10 speriamo che attaccano loro che cazzo si attaccano loro hanno più ma perché attacchiamo sempre una percorrere perché no attacchiamo noi perché abbiamo meno tempo di dorano è due anni che gioco a questo gioco però non la capisco fuck io dovrei anche andare però con la simmetra il primo punto goz meglio goz o non è la cosa che ha fatto non è un altro sto segnato per tempo ma ci si ci si chiama non sembra di nuovo la mei cazzo la cosa la cosa cioè la cosa spante tutto mai si è normalissimo attaccanti che volete fare il problema è che siamo o entriamo dalla finestrella con la dai vai ecco c'è ciao promenu lucio mer ciao a tutti sentilo che mer senza errori speed finestrella punto cioè punto speed finestrella chiamano una torretta da qualche parte per crema 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 sono scoppiato tempo zero anch'io non è va bene no non va bene ok come hanno detto torniamo cosa andiamo cosa andiamo c'è la torretta che va eliminato magari non torno non torno non torno non torno non torno magari fate rain bisogna passare da main per forza se no ci scopano beh non hanno mai non hanno mai ok via la torna ok a che una piccola prima la piccola le pulsiamoメ le pulsiamo le pulsiamo i mi ho bisogno di supporto ta re solo non più presa la torretta no no, 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 no ti sta curando ho fermato le ultime del cric regali, prego regali, 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 regali regali, 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 regali bussiamo bussate, 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 bussate bussate, bussate, bussate non potete bussare eh, arrivo sono un po' di frattata la tua retta, la tua retta, sparate la tua retta vado, vado sulla torretta torretta distrutta bello, 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 bello stanno contestando, vaga per capire se tenere un'altra sull'altra forse è un po' waste, però bisogna no, 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 il cazzo è su questo ma credi, merda, credi, merda i vantini, i vantini, i vantini, i vantini, i vantini, è possibile c'è gente che arriva, c'è gente che arriva mancano trenta secondi re, arriva un po', allo shutter, re, allo shutter tranquillo, è un bait è stupido ricordate, abbiamo solo trenta secondi, dobbiamo entrare drittissimi quel bop ci serve su punto, non puoi sbagliarlo corate, mi corate, mi corate aspetta, fammi posizionare sped, 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 sped io, quando mi sono apprezzionato nel launch andiamo mid? si la torretta è one la torretta è veramente one abbiamo qualcosa dietro forica, forica l'ha fregato torretta, metà, low one fa qualcosa mario è giù ok, point fog low si serve qualcuno, prenda lì qualcuno, prenda lì e mi curi, please curi appalate ehi, la finna fuori dal punto scaperati sul nemico ah, ne hanno bussata a moira oh, help, help sotto, help sotto raga, però, porca pottana ma perché? dobbene, 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 dobbene non va bene, non va bene va benissimo, calma cazzo che ti dici fai bastione adesso o non lo tricco io ok oh ciao bella gimme 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 che cazzo ecco qua bastione orisa o bastione or rain c'è dove? scudo no, doppio scudo no io non sto mobili cioè io non sto fisso fisso è un po' sconfitto per questo ti servono due scudi piuttosto la diva magari di, sì orisa diva ah, ma adesso zen o moira as always ok volendo si poteva anche prendere mercy eh, mercy sul primo punto ci sta tantissimo volendo dato che la vogliamo provare a vincere io a prendere mercy è vero per il resto io ci provo faccio abbastanza cagare con mercy vado io no, sono più veloci di noi allora cacca bisogna prendere i popoli da qualche chiesto e del risultato quello più distante vai prendi un mondo no, 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 no grazie dove piazzi dietro la pietra no, lì dietro la pietra quattro ma io mi devo spostare non posso stare fisso fatemi spammare no, vieni, vieni Anzo in alto a destra Anzo, va raga scioglio come vedi c'abbiamo piccato Anzolol 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 ricarico come ha fatto a prendermi di trossino, non stiga tuoi va bene, va bene, va bene sto mangiando ragazzi, visto che hanno Anzo, cercate di stare nella parte sinistra del piazzale perché se io mi sposto troppo, Anzo mi vede e mi fa il culo Anzolol Ciao, Regno 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 Ciao Grazie Ah, lancio un diversino? No No, non ho gusto lotterei per il vino Sì sì, non serve a me, faccio del troppo danno di mio Oh no Ragazzi hanno Anna a sinistra Se volete Prendetela voi Non tutti Fatevelo Fatevelo Se ti resso muoio No, non restare, non restare C'è un ox di merda, ho un beccato 2 Re, 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 resta basso se puoi Eh, ma c'è Og che gira C'è Og da solo Vai, lascia trodo, mira, lascia trodo, mira Aiutate Ivan, aiutate Ivan, perché non parla, disgraziato Aiutate Ivan Og si è svegliato, devi chiedere io Guarda me, guarda me, guarda me Stavo arrivando Hello, è one Allora, raga Lo riesce ad essere Lo riesce ad essere, papo Ti provo No, non ce la faccio Ho il bongo, ho il bongo Ange in alto a destra, sta provando ad entrare Entrato Dittimi quando pusha Adesso Eh, ora Adesso puntate, adesso puntate, adesso puntate Non ci riesco Anzo top, anzo top, anzo top Anzo top, anzo top Anzo top Eeeh Eeeh Ho presi 3 Lo presi 3 Ho presi 3 Ho presi 3 Lo che poi sul nemico punto di famiglia c'è un bastion c'è un bastion da di fronte al punto non esibato non esibato per creare un high ground sono morto questo è il contatto come un point basso nel mare a pond basso nel mare a point aiutato aiutato aiutarlo ma poi a uno poi a uno bravi film di puttana non si tratta buona mamma mia come on fire che fatica prego guardatevela la testa è che sei mia concierta come che mi hai criticato la proposta con ben g tutti però fanno 67 altri mette lui con la sua calma gira dallo stanzino fa i santelli però sono morti è la bella importante quello io ragazzi lascio